Biceglie è padrone al Gustavo Ventura nel derby contro il Monopoli. Vince, entra in piena zona playoff ed avvia la mini crisi di risultati dei biancoverdi, sconfitti nelle ultime tre giornate di campionato. Zavettieri cambia poco rispetto alla gara di Andria. Cettoschic al posto di Risolo nella zona mediana del campo, conferma in attacco per il trio Jovanovic partipilo-Azzi. Per Tangorra invece 3-5-2 con Genchi e Paolucci in attacco, primo tempo anestetizzato con poche occasioni. Il primo squillo è dei padroni di casa e il minuto 13 dopo un'azione insistita da destra con Jovanovic arriva il tiro finale di Azzi deviato in angolo dalla difesa ospite. Un solo minuto ed è ancora Biceglie a sfiorare il gol campanile da sinistra ed uscita avventurosa per Bifulco che sfiora la palla e serve Petta abile a coordinarsi nel cuore dell'area di rigore, meno abile ad inquadrare la porta. La risposta del Monopoli arriva al diciannovesimo con Sunas che calcia da lontano, Crispino deve distendersi per evitare il gol del vantaggio. Al ventiquattresimo è partipilo a ritrovarsi nel cuore dell'area di rigore ma il doppio tiro viene murato due volte dalla difesa bianco-verde. La gara cala di intensità, non ci sono altri sussulti, si va a riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa parte subito forte il Biceglie con la parabola di Jurkic da sinistra, Bifulco smanaccia come può. Dall'altro lato parte pilo, calcia alto sopra la traversa, 4 minuti ed arriva l'immediata risposta del Monopoli. In contropiede infatti è Sunas a calciare da sinistra, il tiro è all'alto. E sono proprio gli ospiti a trovare la marcatura del vantaggio al tredicesimo. Sunas taglia in due la difesa di casa e Paolucci calcia in area senza lasciare scampo a Crispino. Gli uomini di Zavettieri non ci stanno e trovano immediatamente il pari. Al diciassettesimo è Petta con un tiro al volo di destro sugli sviluppi di un corner. Batte, Bifulco e corre sotto la gradinata occupata dai tifosi nerazzurro stellati. La gara si infiamma e gli ospiti cercano il nuovo vantaggio. Due minuti dopo grazie al solito Sunas il cui tiro è ribattuto in angolo. Minuto 24 e botta e risposta tra le due squadre. Inizia il Biceglie con una conclusione dalla distanza di Risolo alta di poco sulla traversa. risponde Genchi sul ribaltamento di fronte con un tiro bloccato a terra da Crispino. Biceglie e Monopoli si affrontano nella zona mediana del campo e come nel primo tempo si blocca la spinta offensiva delle due squadre. Sino però al trentanovesimo quando un lampo in avanti lo crea Lugo Martinez con una punizione dai 25 metri deviata in corner da Bifulco. sugli sviluppi del corner arriva il vantaggio dei padroni di casa grazie ad un colpo di testa di Jovanovic. Quattro minuti di recupero ma gli uomini di Tangorra non hanno più la forza di reagire e collezionano la terza sconfitta consecutiva. Per Zavettieri un successo che vale oro e che proietta i nerazzurri nel cuore dei playoff con una classifica che resta molto corta.